Dottor Berlusconi, Presidente, l'hai detto prima che lo comprirebbe? Sì, io da quando la Gusto produce elicotteri ho sempre cercato di avere un elicottero nostro di cui dobbiamo essere fieri come italiani. Quando sono stato al governo ho sempre cercato di introdurre la società, la firmeccanica, in molti stati stranieri e tutte le volte ricordavo la primazia che abbiamo negli elicotteri, partivo sempre con dei manifesti divulgativi eccetera.